Dare avvio al corso di laurea in infermieristica di primo livello a Lago Negro per formare 30 aspiranti infermieri. È l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato in passato tra l'assessore regionale alla sanità Attilio Martorano e il preside della facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Firenze Gianfranco Gensini. La bozza dell'accordo è stata trasmessa dal governo Lucano al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere obbligatorio. Secondo quanto previsto dal documento, l'azienda sanitaria di Potenza stanzierà 160.000 euro per l'attivazione a Lago Negro della sede decentrata del corso di laurea del rinomato Ateneo Toscano ed assumerà il ruolo principale per il coordinamento delle attività formative in collaborazione con la Regione. Il decentramento del corso di laurea dovrà garantire, affermato l'assessore Martorano, una qualità elevata di insegnamento tipica di un'istruzione superiore universitaria attraverso un'adeguata selezione del personale docente.